Ciao a tutti ragazzi! Come avete notato ieri non abbiamo fatto il video perchè ce ne siamo dimenticate e poi non sapevamo cosa fare abbiamo fatto di tutto quindi potete anche consegnarsi nei commenti Ma oggi c'è una sorpresa Ci volevamo far scusare per non aver fatto il video di ieri quindi oggi abbiamo comprato il magazine come volete guardate non l'abbiamo ancora aperto c'è proprio tutta la carta perchè volevamo proprio aprirlo con voi perchè noi gli vogliamo me noi bene iniziamo bene abbiamo qui il magazine siete pronte lol? siiii forza aiutatemi a togliere tutta la carta ecco fatto io ho aperto il primo io ho il secondo dai che lo stiamo per finire vuoi farlo tu? vuoi farlo anche tu? ok bene io sto facendo l'ultimo ora apriamolo del tutto ce l'abbiamo fatta! guardate il risultato ecco qua la carta l'abbiamo tolta bene ragazzi adesso apriremo questo magazine ecco qua possiamo sfogliare le pagine potremmo fare un sacco di cose qua si possono colorare le loro mettendo questa penna che guardate un po' si colora a me basta fare così e già si colora tutto faremo un sacco di cose divertiremo un mondo è un libricino magico sicuramente ed è bellissimo e poi io adoro colorare bene scusate ma questo video è durato molto poco perché il magazine è piccolino e non c'è altro c'è solo questo e quindi noi ci vediamo nel prossimo video e a domani ciao